Uno, azione. E quindi tu lavorassi da me? Mi piacerebbe molto. E vediamo, perché lo dovrei dare a più di te? Beh, vedi, questa qui è la mia vita. Non è una vita spericolata, è neanche quella di un film, ma è molto bella, sai? Qui dentro c'è scritto quello che ho fatto. E credi, c'è una cosa in particolare per la quale ne vale la pena. Fammi vedere. E questa qui chi è? È mia figlia. Ma è il mio stesso nome? È un caso.